Filippi, qualcuno l'ha preso per uno scherzo telefonico, c'è stato un momento davvero simpatico ma questo è il bello della diretta. No, è stato bello, infatti l'ho detto anche io, avrei detto anche io la stessa cosa che ha detto quel signore, però è bello, bello perché avere il contatto così diretto con il proprio tifoso fa piacere a noi. Abbiamo visto che molti erano sorpresi e anche emozionati nel parlare con voi, questo sicuramente fa bene perché la gente vi è vicina e ha bisogno di sentire che anche la squadra sente che il pubblico, che il tifoso è importante, che avverte quindi la passione dei tifosi. Certo, è una cosa che percepisco anche durante gli allenamenti perché l'anno scorso non ce n'erano tanti a seguirci ma quest'anno sì, quindi è una cosa che ci fa piacere, ci fa molto piacere e abbiamo bisogno perché assieme possiamo fare sicuramente un ottimo campionato. Quindi possiamo avvisare i tifosi che ci stanno seguendo che se nei prossimi due o tre giorni arriva qualche telefonata a casa di un tuo compagno di squadra, non è uno scherzo? Sì, non mandatemi col paese, comunque sì, aspettateci, potete trovare veramente una sorpresa per voi.